no è dire che non mi sono mosso è un attacco sorpresa, un attentato ti prendi il touchpad, Sara cosa è? ti prendi il touchpad che fico e se schiacci la notte per la destra cambia un po' come si possa fare mi scusi, signore aspetta guardi, lei mi deve ok, ok, vi do il pallino lol, mi sono leggermente schiantata ma lo puoi dare anche da sulla sella come fai? te propone le tue io caro Cristian hai fatto una cosa bravissima no io caro ma lo stai fottendo il cavallo? non so io caro, vedevo andava abbastanza tra il cavallo e l'altro li aveva oh oddio 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 come ti devi piantare la voglio questa immagine qua guardalo come se la tira sto qua ma che fai fottendo il cavallo e l'altro Cristian? ci facciamo quello? no, no, no che cazzo è successo? ma che cazzo? ma che cazzo? oddio Alessandro che fa il pollice in su ha clicchato fuori con me oaea o oaeoo eui ma se sei in boss come non sono in boss? eh no, se ti ha sparato se ti ha sparato come non sono in boss? ma se c'è è fuoco amico che è valido ma c'è il fuoco amico ragazzi Dio merda ma è una taglia questa Alessandro no, assoluto Lorenzo Lama si rende che ma non muore perché l'acqua non è fonda ma si sui la battiglia no questa è la cyber bellissima arrivo Alessandro ah qua? chi? ho trovato il cavallo no, ti dispiace ah di qua problemi con il carrello eh figlio il cavallo ah di scusa ma che ne facciamo di questo qua? ancora vivo lascialo lì in acqua in acqua? vai recupera 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 onore strigliando il cavallo no no vaffanculo mi si recupera onore strigliando il cavallo ho lasciato si l'ho buttato nel fiume chi? il tipo che hai legato? si nooo aspetta il tipo hai chiesto se ancora arrivi il tipo che hai legato? si l'ho buttato nel fiume no aspetta un attimo ma io l'ho ucciso l'ho sparato in testa vecchio ma no no ah si è morto ah ok si si è vecchio andiamo andiamo se è vero si è vero che cosa è successo? è volato via mi hai fatto volare cretino io sei tu che mi sei venuto addosso sei venuto addosso a me come è possibile? come è possibile? siiii mi hai fatto volare tu? ma il waifu mi hai dato della cretina nooo ho detto come è possibile? mi hai anche dato la bocca cristo santo ma ma è aaaaa sei morta? mmm aaaaa nooo son volata il cavallo come sto incavando volare via? ahahah 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 aspetta non ti aspetto vola ah ah yes ah 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 eh easy bellissima l'immagine di Enrico che cazzo ahahah che cazzo ahahah 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 ah kate 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 brava rimani dietro di me no ahahah ahahah Io continuo a mangiare Io lo sapevo Io lo sapevo Io mi sono nascosto apposta Vuttati l'acqua Vuttati l'acqua Penso che questa sia la giusta vendetta Perché ti stavo cercando E non ti sei palesato Questa è karma Ti sta a fare anche questa cosa che ci ammazziamo A questo Ah che cagliate C'è la che viene presa il lancio C'è la tua pazienza Basta che palle Ma che se ne ammazzis il cavallo Te ne faccio di tante No no è rivitalizzante Ti libero Mi stavo liberando comunque te lo dico Ok Che mi scioglia di merda che ho però Momento indimenticabile Momento indimenticabile Libera mi Arriva un petto anche te C'è mi si era pure disconnesso il joystick Porca tanto Cosa state facendo nel cespuglio di Prezi? Aspetta voglio Voglio vedere Fatemelo vedere vi prego Ti ho schivato Fatemi vedere cosa state facendo prima vi prego Perché? Perché il signore ti ha dato la possibilità di respirare Enrico No Scusa Adesso ti vieni con me No adesso resti lì Mi libero da solo Vaffanculo Facciamo cose nel cespuglio Vieni con me Va bene dai prendimi Mettimi nel cespuglio Adesso Vieni con me 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 Oddio Ah posso fare lo stesso la foto Mezzo di trasporto 5 stelle Aspetta che vado anch'io cazzo Aspetta 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 Voglio anch'io la foto Vuoi vedere te Sara? Vabbè ma Roma e scusa aspettate No no Mi schianto credimi Ah che bello Raga la foto si fa qua Se andate a fare la missione Vieni con me 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 Io ormai sono troppo distante Non ha neanche senso che vi raggiunga oh ma qua c'è la faccia oddio oddio che è successo che è successo che è successo i cavalli sono i cavalli sono i cavalli sono va bene no ragazzi io me la faccio sante è bellissimo io ce l'avevo detto io ti adoro Sara ti adoro quando fai così ammazzare tutti così mi viene naturale è una cosa preoccupante ma mi viene naturale ti viene naturale dai ti passo le redini ma porca troia il cielo 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 lo dobbiamo cercare esattamente Sara ok oddio 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 non vissi Ah vissi Enrico 30 è morto no vissi che vissi vissi che mi ha fatto fare ti adoro sbaglio che mi ha fatto fare ma porca troia basta ti prego mi fai morire sei divasto sei divasto